Gianni Sassi è un personaggio fondamentale nel quadro culturale di Milano degli ultimi decenni. Ha incominciato la sua attività verso la fine degli anni 50, occupandosi di pubblicità e poi praticamente insieme a un gruppo di amici, Gino Di Maggio, Gianluigi Simonetti e altri, ha costituito un gruppo che aveva chiamato l'Intrapresa e questo gruppo si occupava di iniziative culturali. Queste iniziative culturali sono state molteplici e hanno coperto poi anche tutti i decenni seguenti. Quelle più rilevanti, secondo me, oltre appunto l'organizzazione dei festival di Milano Poesia che sono durate per tutti gli anni 80, c'è stata anche l'impresa della casa editrice discografica, Krams, che ha pubblicato e non solo quello che erano i rock degli anni 70, gli Aria specialmente, ma anche tutta una collana di musicisti contemporanei, da Cage, a Bules, Cagal, eccetera. Ora, l'apporto che ha dato alla cultura di Milano Gianni Sassi è considerevole perché veramente ha mosso tutta una serie di rapporti tra cultura alta e cultura bassa che non si era mai vista prima e che ha fertilizzato questo terreno in una maniera che ancora oggi non è stata dimenticata.